Nei due anni di pandemia da Covid una donna su tre ha rinunciato alla mammografia, un trend negativo che potrebbe provocare un aumento di mortalità per tumore al seno anche del 10%. L'Unione Europea reagisce con diverse iniziative, tra cui la raccomandazione di eseguire la mammografia per le donne tra i 45 e i 74 anni. Le lesioni che potrebbero non essere state diagnosticate durante questi anni di pandemia sono tantissime, veramente numerose. L'Europa ci invita proprio perché si parla di epidemia del cancro, perché si è parlato tanto di epidemia di Covid e non di epidemia del cancro. Purtroppo ci sarà l'epidemia del cancro e per correre ai ripari l'Europa ha proprio dato indicazioni precise, certe, proprio per cercare di salvare 3 milioni di vite umane entro il 2030. L'età della mammografia dovrà essere allargato perché le nuove raccomandazioni europee indicano che lo screening mammografico dovrà essere per tutti gli Stati membri, quindi Italia compresa dai 45 ai 74 anni. Un messaggio che noi dobbiamo assolutamente dare è quello di seguire questo modello di screening di salute pubblica e poi di dare dei consigli alle donne anche oltre i 74 anni, anche alle donne più giovani comunque di controllare il loro seno. Per promuovere controlli mammografici l'anno scorso è partita la campagna screening routine, la prevenzione come rituale, avviata da Roche e Fujifilm in dieci centri italiani e grazie alla quale sono state erogate 62 mila prestazioni in più rispetto ai periodi precedenti. Abbiamo visto che c'è stato un aumento degli screening rispetto all'anno precedente, abbiamo visto che le regioni che sono partite per prime hanno aumentato ancora di più e abbiamo trovato delle forme anche interessanti dove alcune regioni come ad esempio la Campania ha fatto gli open day durante il weekend proprio per facilitare l'ingresso degli screening o come Lodi dove anche lì ci sono state delle forme di collaborazione importantissima. L'ospedale di Lodi ha favorito l'ingresso tant'è che ha dei numeri incredibili in termini di screening. Risultati a cui ha contribuito anche l'innovazione tecnologica. I mammografi digitali di ultima generazione hanno infatti sostituito apparecchi più vecchi, determinando una migliore qualità degli esami, tempi più rapidi e un minor disagio per le donne. Innanzitutto un mammografo digitale può dare meno radiazioni rispetto a un mammografo analogico, circa il 30% in meno si stima. Poi sicuramente c'è tutta la tematica legata anche alla velocità di esecuzione dell'esame. Oramai l'esame con i mammografi digitali di ultima generazione effettuano scansione in pochi secondi, quindi veramente riduciamo al minimo quel momento di stress per la paziente, grazie anche poi ad esempio all'utilizzo di plate di compressione che rendono in qualche maniera meno problematica proprio l'esecuzione dell'esame.